E' importante continuare a investire con convinzione nella ricerca archeologica che non smette di restituire importanti tasselli della storia del Mediterraneo, dichiara il ministro della cultura Dario Franceschini. Si sono appena conclusi gli scavi archeologici presso l'acropoli di Eleavelia in corso dallo scorso mese di luglio. I risultati della ricerca consentono di far luce sulle più antiche e lacunose fasi di vita della città fondata intorno al 540 a.C. dai coloni focei provenienti dall'Asia minore. Le indagini archeologiche programmate sotto la direzione di Gabriel Zugtrigel hanno previsto l'esecuzione di sondaggi localizzati in diversi punti dell'acropoli e hanno risposto a due importanti obiettivi, comprendere l'organizzazione iniziale dell'acropoli di Velia e risolvere problemi di cronologia delle principali strutture sacre della città. Sulla base di precedenti ricerche archeologiche avviate negli anni 20 del secolo scorso e proseguite con discontinuità fino agli anni 90, si ipotizzava, anche se con forti dubbi, l'esistenza di una struttura sacra arcaica antecedente al tempo maggiore dell'acropoli di Velia. In particolare si pensava ad una sua collocazione sul terrazzo più elevato della punta occidentale dell'acropoli. I recenti scavi non solo hanno confermato l'esistenza di un edificio sacro ma ne hanno anche precisato la collocazione, la planimetria, la cronologia e il rapporto con le strutture più recenti. Gli archeologi del parco hanno infatti riportato alla luce resti di muri realizzati con mattoni crudi intonacati e fondati su zoccolature in blocchi accostati in poligonale, una tecnica utilizzata anche per le abitazioni di età arcaica, rinvenute lungo le pendici dell'acropoli. Tali testimonianze disegnano un edificio rettangolare lungo almeno 18 metri ed ampio 7. La porzione interna della struttura è pavimentata con un piano di terra abbattuta e tegole sul quale, in posizione di crollo, sono stati rinvenuti elementi dell'alzato, ceramiche dipinte, vasi con iscrizioni ire, ovvero sacro, e numerosi frammenti metallici pertinenti ad armi e armature. Tra questi due elmi, uno calcidese e uno di tipo negau, in ottimo stato di conservazione, i rinvenimenti archeologici presso l'acropoli di Elea Velia lasciano ipotizzare una destinazione sacra della struttura, dichiara il direttore generale dei musei e direttore avvocante del parco archeologico di Pestum e Velia, Massimo Osanna. Con tutta probabilità in questo ambiente vennero conservate le reliquie offerte dalla Dea Atena dopo la battaglia di Alalia, lo scontro navale che vide affrontarsi i profughi greci di Focea e una coalizione di cartaginesi ed etruschi tra il 541 e il 535 avanti Cristo circa, a largo del Martirreno, tra la Corsica e la Sardegna. Liberati dalla terra solo qualche giorno fa i due elmi devono ancora essere ripuliti in laboratorio e studiati. Al loro interno potrebbero esserci iscrizioni, cosa abbastanza frequente nelle armature antiche e queste potrebbero aiutare a ricostruire con precisione la loro storia, chissà, forse anche l'identità dei guerrieri che li hanno indossati. Certo, si tratta di prime considerazioni che già così chiariscono molti particolari inediti di quella storia eleatica accaduta più di 2500 anni fa.